La nostra fondazione lavora anche in ambito internazionale e come Fondazione Telecom Italia abbiamo la possibilità di lavorare anche in Argentina e Brasile, quindi abbiamo fatto partire un progetto con Oxfam Italia dedicato agli studenti e ai ragazzi mettendo in relazione le esperienze italiane con quelle brasiliane, cercando di creare una piattaforma educativa per educare i nuovi cittadini, i giovani nuovi cittadini a un bene comune universale, quindi un'educazione non tanto basata sui programmi ministeriali di ciascun paese ma quanto alla possibilità dei ragazzi di diventare cittadini del mondo basati su un'economia sostenibile una cultura diffusa e una condivisione di beni e valori che saranno quelli che ci dovranno guidare sperabilmente per una società più sostenibile rispetto a quella attuale. Questo progetto quindi che mette insieme esperienze di studenti e docenti italiani con esperienze di docenti e studenti brasiliani pone Fondazione Telecom Italia in un'ottica internazionale per realizzare progetti innovativi con supporto tecnologico ma anche con grandissime competenze diciamo manageriali e culturali.